James o Biond, mille volte irriconoscibili nei suoi travestimenti. Sono Biond, sono Jessica Biond. Allora James, questa è una pillola in caso di emergenza. Scott Lyard mi ha chiesto di studiare una pillola del genere. Praticamente contiene un po' di tutto. Sali minerali, proteine, vitamine, tutto quello che occorre. Ferro? Mi raccomando James, ogni pillola del genere costa 50.000 sterline. E ti hai fatto fanno combattere amarello e sempre amarello. Facciamo l'indelicenza. Mi chiamano Biond, James o Biond. Prossimamente nei peggiori cinema. Grazie. 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 Grazie.